Sei un giungla! Uè, giungla! Ah, sono Emma Coriandoli, il mio bambino delirio non si era realizzato nel lavoro, io dove lo butto? Non si è mai drogato, l'ho buttato in politica, l'avevano anche fatto segretario, solo che dopo le inimicissie l'hanno silurato. Me l'hanno silurato il ragazzo, gli è venuto un gran sistema nervoso, allora gli ho messo sulla televisione, Coriandoli Channel, te buttati con grillo, te fai Delirio Journal, il Tg internazionale europeo, così diventi leader europeo. Ti do una mano anch'io, adesso arriva, Delirio, cammina avanti, stai rigido, vogliategli bene.